Weekend da Bollino Rosso su strade e autostrade siciliane in vista del massiccio controesodo dalle vacanze estive. Code e rallentamenti sono previsti ai caselli autostradali e ovviamente a Messina, lungo le strade che immettono agli imbarchi dei traghetti per la Calabria. Per studiare misure straordinarie di prevenzione e controllo del traffico, nei giorni scorsi in Prefettura si è svolto un vertice operativo alla presenza di tutte le autorità interessate. Lungo la A20, Palermo-Messina, destano particolare preoccupazione le diverse zone interessate da restringimenti della carreggiata e i due tratti a ridosso delle gallerie Tindari e Capodorlando nei quali vige da anni il doppio senso di circolazione. Il Consorzio Autostrade ha previsto possibili situazioni di disagio e caos, in particolare negli orari diurni, mentre nelle ore serali il traffico dovrebbe scorrere in maniera più regolare. Monitoraggio particolare a Messina anche in corrispondenza degli innesti con gli svincoli di giostra e ritiro, dove il traffico viene incolonnato sistematicamente in carreggiata ridotta e già durante i giorni di normale traffico si verificano grossi intassamenti. Per gli utenti che dovranno utilizzare in entrata e uscita il mini svincolo di Villafranca, il suggerimento è quello di usufruire delle fasce orarie tra le 14 e le 16 oppure la sera dopo le 21 fino alle 8 del mattino. A Messina Città l'attenzione, come detto, sarà tutta puntata sugli imbarcaderi delle navi traghetto, nei pressi dei quali saranno svolti controlli straordinari sia da parte della Polizia Municipale che della Polstrada. In tale contesto giunge un'ottima notizia, attesa ormai da tempo. Da lunedì, infatti, sarà pienamente operativo su entrambi gli scivoli lo scalo di Messina a Tre Mestieri. Dopo più di tre anni, dunque, tutti i tir che attraversano lo stretto saranno obbligati a imbarcarsi o sbarcare a Tre Mestieri. La riapertura a pieno regime della Prodo Sud non risolverà però, almeno per il momento, la questione con Caronte Tourist, le navi del Gruppo Franza che operano sull'autostrada del mare Messina-Salerno, continueranno infatti a fare servizio dal molo Norimberga.